1 Oh Iale hai finito il suo bunker o no? Eh si entra vieni Ah fammi vedere Oh carino visto che noi siamo Quanti siamo noi nella cotta? 8 giusto? 1 2 3 4 5 No aspetta 8 8 8 7 8 si ok Siamo in 8 abbiamo fatti i giusti Qua ci sono le casse Crafting table Fornaci qua c'è la cucina Bello bello questo bunkerino Si si devo fare i suoi lavori Ma ti vado a andare a pescare? Pescare si Ti ho già messo nella tua casa la canna di pesca Ok Eh vieni però Ok io vado a prendermi a casa mia La mia canna di pesca Ah ciao mamma sei tornata Finalmente Va bene Poi ciao mamma io devo solo prendere la canna di pesca Che io e il mio miglior amico andiamo a pescare Ok Mi vado a pescare un po' si Ciao Aspetta che lo chiamo Alessandro Oi Ale Ricordati la canna eh Si 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 ce l'ho Ok Ok andiamo a pescare Che qua dentro c'è proprio il laghetto Il mare Quale laghetto il mare Ah che bello Magari dovremmo affittare pure una spiaggia per Farci il bagno al mare Al posto della piscina che abbiamo in casa Ok Stiamo pescando Guarda i pesci che abboccano Mamma mia Che bello pescare Oh Pesce Ma da me non vengono Eh no devi Eh con la bollicina Tira Eh vabbè Quando so la bollicina devi tirare Ah ok Così perché vuol dire che sono i pesci Non va La bocca Oh una pesce bella Buono Ma da bollicine molto A me le bollicine non ci sono Ok ho preso un pesce Buoni pesci Questa è la nostra cena Mangiamo nella nostra casa Ricordo che domani è il mio compleanno Se tu sei dimenticato No 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 Non me l'avrò dimenticato Ah vabbè Ma dopo domani è il mio Ma che cazzo Eh sì abbiamo Dei giorni uguali Dai io ho preso un bel po' di pesce Ma che cazzo Mi spieghi perché cadi all'improvviso in acqua Sei tu che mi hai spinto Stupido Ma dove cazzo Ma se io stavo là Non era il mio intento Tu mi hai spinto Tu mi hai spinto Oh non mi rompere Che dobbiamo passare Vabbè vado in casa Arrivo E io prendo ancora un paio di pesci Così Domani è il compleanno Non vedo l'ora che viene nel mio compleanno Ok Allora cuciniamo Io sto portando i pesci Quindi mangiamo così Sì almeno la cuciniamo Ma non andiamo nella casa nostra Andiamo nel bunker Sì Perché i pesci li devi cuocere nella fornace Sì Tranquillo Con cosa devono cuocerli i pesci? Ah con il carbone Me ne dai un po' E poi a 60 Oh bucate nei domani Oh Pia Te l'ho messo pure Grazie Pego Eh metto pure questo dopo il pesce palla Ok Si mangia direttamente Poi ci pavano E io me lo tengo Buongiorno mi giro un po' la testa sai Oddio Questa stessa Eh Eh No fra non svenere ti prego Oh Ah mi sono ripreso finalmente Oh Mi giro la testa 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 Mamma mia amica Mi giro la testa Guarda assaggio 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 Cosa il pesce palla Il pesce palla Oddio mi giro un po' la testa Adesso svine ogni 3 per 4 Oh 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 Mi sento un po' meglio Ti sei preso? Eh Pffu Uè Grazie Sei 4 Fio di buscata Nel non è santa Non so Meglio Mangi un bel pesce Ok Finalmente Nella nostra casa Mi sento ancora un po' male però Vai 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 Non sono un cazzo So che tu ce voglio non andare in cazzo So che tu ce voglio non andare in cazzo Allora Damani mi compriamo però Ci voglio fare un regalo a Tommy Dai vado a prendere un bel Cane Sì dai un bel cane Io devo Devo andare lì a fare il regalo D'Ale Cosa cavolo gli ha regalo Ehm Ale vado un attimo a casa mia Vai 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 Cazzo mi sono dimenticato del regalo Porco Ciuda Ehm Allora regalagli un diamante C'è anche un po' Un paio Mamma ma dove cavolo li trovo Dove pensi che io li trova Ehm C'è un negozio qua a fianco Che li vende Quindi puoi andare lì Veramente Sì 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 Proprio qua a fianco Ok Grazie mamma Vado Ok Dice che Io ho messo i cani in casa E vediamo quando sono il quad La dentro Ci sono dei diamanti Ci sono dei diamanti In teoria Giusto Ma Vediamo No ma Perché non ci sono Io sono in ritardo Questo regalo Porco Ciuda No 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 no